Ciao a tutti e benvenuti all'Avrimos de Calcio. Oggi vi porto in Messico perché voglio farvi conoscere un giovane calciatore del club deportivo Guadalajara, altrimenti noto come Civas, Ariel Castro Sevilla, classe 2005. Apro parentesi, con lui nella cantera del Civas ha giocato anche un altro calciatore interessante, l'attaccante Diego Liva, attualmente al Pioneros de Cancun. Anche lui è un 2005. Segnatevi questo nome come calciatore da seguire con interesse. Vedremo se riuscirò a fare un video anche su di lui prossimamente. Vi ricordo velocemente di iscrivervi al canale, ma adesso concentriamoci sulle skills di Ariel Castro. Questo giovane calciatore messicano è un attaccante ambidestro. Attenzione perché non parliamo di una prima punta. A dire il vero ha cominciato come centrocampista, ruolo dove ha dimostrato una grande propensione al gol, di cui i suoi tecnici hanno deciso di impiegarlo come attaccante, un ruolo che Ariel Castro ha dimostrato di sentire suo. Sono già un paio d'anni che si parla di lui come di uno dei canterani più interessanti. Infatti il passaggio dalla formazione sub-18 del Civas alla sub-23 è stato rapido, ma non è finito. Perché il tecnico argentino Fernando Gago, che ricorderete come calciatore del Real Madrid e della Roma, lo ha convocato lo scorso marzo per un amichevole che la prima squadra ha disputato contro l'Atlas. Decisione presa dopo la doppietta segnata all'America in categoria sub-23. Pensate che non sono pochi quelli che vorrebbero vedere giocare a Ariel Castro al posto del Cicerito Hernandez. Tuttavia nel frattempo il ragazzo è tornato nella sub-23. In effetti il calciatore, prima di essere lanciato in prima squadra per impegni dove ci sono in palo i punti, ha ancora bisogno di crescere. Non è ancora strutturato, ha un fisico che va potenziato. Insomma, va aspettato e gestito perché è chiaro che non si tratta di un calciatore pronto, ma sicuramente con grandi potenzialità che va accompagnato per mano, per step. Di certo non gli manca la personalità, ha quella giusta dose di spavalderia di chi è consapevole dei suoi mezzi. Tuttavia nel suo caso, per esempio, non riesco ad entusiasmarmi come ho fatto per Franco Mastantuono, ma sono convinto che non quest'anno, ma magari il prossimo, a Ariel Castro possa guadagnarsi il suo posto nella prima squadra del Civas e in futuro non lontano chissà raggiungere traguardi ancora più importanti perché le premesse ci sono tutte. Per spendere altre due parole sulle sue caratteristiche, è un calciatore duttile, gioca da seconda punta, può fare la mezzala, ha ottimi tempi di inserimento, così come può giocare esterno d'attacco, a corsa e fiuto per il gol. Diamo il tempo per crescere, ma non manca molto affinché il ragazzo sia pronto per giocare con i grandi, per così dire. Teniamolo d'occhio e chissà che tra qualche anno non arrivi in Europa. Per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e vi do appuntamento alla prossima volta, ma mi raccomando iscrivetevi al canale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.